Sono nudo Simona Pony li stava a fight team e non ci si caga nessuno Vabbè come... no... abbandono? Gioca, gioca No te, toffa eh Gioca Porco due, perchè? Perchè ti dò scorto? Tu i tuoi dati, fate costruire, devo abbandonare Tu devi essere personalizzate Vabbè, sono nero e blu, ripetti pausa No, ammettete, abbandonate Abbandonate voi Cazzo, pure loro lo vedono che stavano Che cazzo c'ho quella meglietta nera per diventare Ma non manco c'è l'anno nero Chia nera blu Cosa faremo? Si, ti sa perchè, lo fa sempre, non si sa perchè Lo fa spesso eh Si fumo? Rimetto pausa, abbandonamo? Abbandonamo eh Oh, si vede però mezzo eh No, abbandonamo No Eh Oh te lo giuro, ora c'è, facciamo una sconfitta Ogni dieci partiti, ma del genere Questo bel braccio che c'ho anche te lo dà un bravo Della carrettera Della carrettera Ah, ma hai visto? Italia in quarantena, tutto il paese Non si può uscire dal Lazio, delle cose Eh, non so Oh, siamo i secondi al mondo, abbiamo superato la Corea Oh Eh, la Corea sta accanto alla Cina eh Fatte capire Fatte capire Siamo il numero due al mondo Oh, il Portogallo, vai Portugal Oddio, ma che è? Portugaisi Differenzi Oh, già hanno messo pausa Brasil Ok, passaggi prima, rapido eh T'ho sbagliato io Io L'amico suo non c'è sta L'amico suo non c'è sta Brasil L'amico suo non c'è sta Come fa male un cagli e palla Damm Eh, infatti l'ha stata No, questo si suonava stancato prima o poi, ora Vai No, no, no Vai Forse lo facciamo regola con la 1, forse no Beh, il special talent on view today We've got Lionel Messi Against Cristiano Ronaldo Ah, che ha preso Non mi piace Mi voglio fare il suo video prima Oh, occhio Vabbè, il dribbling cosa hanno fa, eh? Ma stichiazzi, eh? Ma no No, non lo accetta Il dribbling cosa ne vanno Scusi 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 Perfette I pepe E l'ha oltre A Scusi 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 Vabbè Riamo Scusi Vole tagliela, non ti chiude Tiralo, tiralo sul primo Pazzesco, fatta la mella eretta Perché mi devi far giocare alla porco zio sto poco direvo bene Segniamo, segniamo 1 a 0 a mo il tavolo Io ti stavo a giocare, sai nel tempo che volevi Era solo No, era di avvicinare sul primo Spalla l'attacca Ah sul primo, no, sul primo lì Ma perché sei, tiralo subito C'hai il tempo Sei da solo Ah, uomo, bella 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 Sei da solo, senza nebcaccia E rimbanno ancora e non do volto E fare meglio dopo tempo Che si può riconoscere Giordani C'è il tipo del giro Semi-lo 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 Luis Suarez Oh, uuuu A cosa si... cosa rai? no bravi bravi E' tanto largo ne è? Bravissimo Bravo, mi riporta un giocatore Adesso dove stanno questi giocatori? Stanno appiccicati Messe Diffenso la propria giocatore Semedo Messe bravo bravo come lo piaggio da te vai momento ma l'hanno fermato bravo no 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 bravo non si sa che ferma sto cazzo di young cioè fa il movimento poi degliata dai lui si fermano io non capisco perchè ci troviamo in pista normale capito se hai mangiato sei mosso te hai messo mosso te poco però mi ha stuprato caro bravo bravo david ma continuo vai tutto dentro vai tutto dentro tira 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 bene peccato 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 bravo 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 tira 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 pulizia tira tira a io ce l'ho spostato pure coso dai io leonano si sembra bene quando si attacca no buona visione bravo oh 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 people giocatori testo calibro come jaudio fanno a fatti passaggi mi sorprende sempre certo mario per follo lei oh no vabbè ma lo mangio addio si è andato a me questo è andato a tirare su rigore questo è andato a me sono chiusi tutte e due se no gliela passavo non è che mi vado a tirare a loro Bruno Fernandez Cristiano Ronaldo non la ho porco dio non la ho cercato di entrare il suo punto non la ho cercato di entrare il suo punto non la ho cercato di entrare il suo punto si passeggia in automatico si passeggia in automatico oh segui la oh oh ma che non è riuscito mamma mia ma piangolo così non lo ho cercato di entrare il suo punto non lo ho cercato di entrare il suo punto ma non lo può Sto facendo saltarlo low! Eheh! 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 Il giocatore più bravigio del gioco, quanto potrebbe essere! Eheh! 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 Ho caricato la prima! Lo so! Riocatore alla disserchio! Riocatore alla? Eheh! 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 muoto il gioco! 7 minuto! Oh mio! Eheh! Saha! Eheh! Eheh! non stanno a far più i passaggi nostri, è tutto via a cuore e corsa 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 buona giada pensa 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 perdono due minuti puoi caricare al massimo là per il massimo perché si perché la di spalle ultimo rispondo prima se io poi vabbè ma cattivo però mannaggia madonna che chissà questa che abbiamo regalata probabilmente regalata 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 rigore ma lì si ferma che c'è lì fa regalata regalata proprio ditta visto che movimento che fare se c'è paghi i piedi per co2 e siete che ti ha dato da te non ho capito se vede b che era fa qualcosa se ho ceppato di i piedi no leghe che mi provo fa ossessi ne provo a dribbla ronaldo poco dopo all'ultimo virpalo a valla schizza mi capi a uno dei nostri porco si usa e pippa me facevo ma sai che tipo strano esistono no nel mondo parco di lao grisma nel palo mannaggia madonna da diciamo potevo passare no no potevo risegnare mi sa che hai tirato po po a cattiveria come fai sa fa spesso se fa cordito come sai c'è il primo palo è un bel dito io ho sento un dito pesante c'è il tessino che copro dietro c'è il tessino che ci sono Ederson, Raheem Sterling start with Riyad Mahrez in the wide positions and just one up front for them today. E' una cosa giusta di farlo. Piquet start alongside Clément Longley at the back. We'll see how the striking option works with just one up front. I don't know, Piquet is going to put it in the middle. Oh no, he's going to play! We love him! I don't know Piquet, I wanted him to play well. I can't remember. Lui Suarez, Suarez! Oh, let's go! Oh, Goddio, che pallio! Bello, giusto! Bello, 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 bello Ti rollo? Ti rollo? Ti rollo, mi piace? Posso c'è star l'undicesima e' buono, che fa comodo comodo Assu, è trippeghiamo Ma sai, rosso strano però, eh Da davanti, l'ultimo uomo Ma te fa nascola da dietro già dentro l'aria? rilevo verbale devo cagà tiro io tira te va? 32 metri. no, non cassa su tutti che? vai, tesa ce n'esce una questi casi centro le cori 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 vai cori 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 io come sbagliato tutto addosso stavo del cazzo porco duro mannaggia la sindrome porco dio c'è stato un blackout ma la volevo tutto per piazzata vinta tutto mamma e ne ha fatto manco uno ma cura schioppato il dito al cervello ma se il buco hai trovato bravo che buco di torri trovato fuori cd e la noti non voglia rotta vivo eh la situa i piattini d'oro dove stanno c'è qua c'è chi c'è qua eh comunque quel buco mancanza dei giocatori per barsa senti è accuso eh poi agli inscita eh vedremo mamma mia sei un bobbrelosi oggi te giuro no 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 non no 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 mi ha iniziato a far pezzare troppo mi ha iniziato a far pezzare troppo ma mi nervosisco eh ma mi nervosisco eh vegliavo le vota cazzo l'ho agganciato al dietro non agganciato dai 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 gialli ah androco un altro eee è il nuovo front come subito no e subito dalla ma giuntano a finire percorso me fai quel passaggio meglio di sopra quando sopra è libero stai a ragionare io sono solo commessi vabbè prima dei primati ha aspettato e maria solo di giocatori addosso ma la passata e perdi dopo cerco di dalla in qualche modo da detacco ma giocatore giocatore addosso ma chiuso già il cambio giocatore bravo così mi piace con il gioco e la portiera e io tra l'altro cosa capito la mette portiere no perché è uscito bene quarto gioco specchio sono a fai i cambi chi levano sono a capirci nel bel pochettino no ma io ho visto che si è spostato sul primo a parte che ha fatto con una mano eh no ma muoviamo mi piace tacro te con l'angletto vabbè c'è stato no c'è stato niente no no arthurino no ma no 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 la tira secondo sì ma non così non così dire però pure della bdl sbagliato io l'ho stata solo di crescita pure dentini messi dal torte la piaia un croccio ma che bravo bravo la rosso 10 10 bello ciò Il resto è la vera scena Eh, adesso lo so Oh, Griezmann è il rodaccio Parlo io, me ne so meglio di due così No, perché là Non me lo sento bene il tiro sul primo palo Ma non te puoi mettere a tira a col destra con Griezmann Già fa cagare lo mette a tira a col destra a giro Lo fai spesso Con Griezmann, sì Non lo fa Non lo fa Ma non cazzo di acceleramento Mezzo secondo, se lo sa Bravo Non lo fa Semedo Now Messi Now è Suarez Messi Oh Non manno qualcuno, porco Dio No, presa Sì No, non è Suarez Oh, dove È un uccano Allora, non lo fa Non lo fa Ma non lo fa Mi piaceva a muovere Mi piaceva a muovere Mi piaceva a muovere Mi piaceva a muovere Leroy Sané Sanno un dieci porco due Riusciamo a fatto passaggi Oh manacciamo nonna Dai basta te Porco due David Che cazzo le gambe se fallo a loro non è che te liberi Ma eravamo ripartiti Ma vai Gris mangris 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 No calmo calmo No calmo calmo Aveva un terzino del cervello mio dice una cosa e gioco fa un'altra Pichiamo la pianta da Lugna porco sia un mazzo Vabbè 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 Non Questa volta mi ha detto Guarda attenti alla prossima Luis Suarez Ma rigira dietro Eh ti sembra facile rigirarsi così con uno come Suarez Eh ma con un giocatore come te si Vabbè Cioè vedi Parco Dio Mamma c'è una lentezza adesso il gioco è Dobbiamo fare più tocchi più tocchi al centro campo Siamo a 11 Mamma 12 Se buono se buono se buono No ma mettete bene Ma stai da solo davanti alla porta ma porco Dio ma perché devi dire dal limite dell'aria E ora Pare che stiamo a vincere 7 a 0 i modi come dirio Ma no ma se lì si tirava così io non dovevo guardarmi ossidere Cioè ti ho tirato sul cavolo eh Vabbè 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 No c'è sta bene C'è sta bene Ma guarda Parco Dio C'è sta bene Eh no c'è sta bene Fammi i coglioni Fammi i coglioni Viti Ma che coglioni Ma se non attire più il palo Ma stai da solo uno ma fida di se salivi Eh si tu davanti davanti porta ma la ripassi commessi Parco Dio il giocatore più forte del gioco Te la ripasso c'è un giocatore vicino Eh fida di se salivi Quello era gollo Eh vabbè si No c'è ragione di Eh ma ho tirato male Non hai tirato male ma se ti avvicinavi segnali Eh non hai tirato male ma se ti avvicinavi segnali No c'è un po' l'opera di qua Un po' l'opera di qua Oh ho bisogno di essere Mamma mia fortuna è questo oriente fa queste cose oh Io non so chi cazzo è Kyo Non è lunga No Mamma mia Mamma mia Che cinici sottoporta ho Sia io che te ho mamma mia Ma lui ho tirato bene però Me ne frega un cazzo che tiri bene Ma tira bene da vicino Eh Tiro bene Poi posso tirare bene da 40 metri Ma se sto a 10 metri tiro meglio Eh dai presti che è statistica porco dio Poi stiamo Facciamo il gioco nostro 11 contro 10 Ho fatto un paio di azioni Ci siamo 2.000 buchi Poi ho sbagliato tutti i passaggi Poi un'altra cosa A giro con Griezmann Cor destro non ci tirà Non ci abbiamo segnato manco una volta Ti giuro manco una volta ho Griezmann a giro Non ci tirà Già ne abbano cor sinistro Penso da cor destro Ma no ce l'avevo potenza ma non devo rientrare Non devi rientrare là Non devi rientrare là Tiro Francesco Brava, coptillo. Da defesa delle franze il suo stranie? Vedi bene, perciò vannano. Non scurava bene, ma è che non lo scurava. Buona intercessione. Messi. Non, non? Non così ciò. Semedo, stavo facendo leggerlo. e hanno la balla in torno a Barcelona Arturo Vidal Frankie de Jong questa è una grande intercettione intercettione no, mi sta all'acqua, porco diosiella mi sta all'acqua strana tu stai? mmmm no tu no, è, la giustavo bravo Semedo buona lettura per anticipare il pass è con De Jong la giusta la giusta un pass Semedo and down the wing to the dangerous Messi working the opposition over a little bit here with their passing really in the clear now in on goal oh he's done that plenty of times before in from Antoine Griezmann Vidal he's defending here but he's got the ball no bro I love him 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 you could have any complaints about that here's Conte couldn't hold on to the ball he's got 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 his foot in to cut out the pass nice he's got the ball nothing here's the chance to get in the cross here's the chance to get in the cross now we have to try how does he say here's the chance to get in the cross the racquetich this way you can put them in front here and he's done so much ma si va bene ma gli occhi boooom oh oh Vidal Well the away team will be interested in this Because the home side are now defending With a clear offside trap Well they've laid down a marker Can they get through now the opposition Arturo Vidal It's with De Jong Semedo Good movement from Barcelona Typical of them Messi A real chance here He is a savior there No I didn't have to let him go No I didn't have to let him go I didn't have to let him go And they're going at the opposition With speed Lai Si Porca madonna Pensate a Maria Is an altro giocatore I didn't have to let him go About the Check I can P.K. Sto davanti Noo che fai? Vuoi tornare là? Noni! Eh tavolo, tavolo volito! Aspetta da ammasi Biosi C***a puttana! C***a puttana! Che c***o la tavola volito! Eh la la rigiravo! Poi io tanto ti stavo a fare solo la posizione Quindi se ti rigiravi ma la potete da là Che faccio? Vado a cercare addosso all'uomo Eh invece mi ha chiuso così Eh ma anche perchè Madonna Ma no Vuoi vedere il roma in tempo reale? Tutto voluto? Terribbino Allora... Ma che è a mezzanotto? De lunedì? Che c***o vuoi che sta a mezzanotto? Eh che c***o vuoi che sta a mezzanotto? Ma che c***o vuoi? Ma che c***o vuoi che sta a mezzanotto? Non è sicuro che ha già tanto tempo come pensava Ma che c***o vuoi che c***o vuoi? Come è c***o vuoi che sta a mezzanotto? No Mortacci Ha 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 Ho l'incubi con questo c***o prendilo 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 prendi premi un bottone la ne quando hai trovato le stesse situazioni devi premere un bottone ma ne lo so ma che non lo faccio dai lo so quando lo volevo farlo io sono difensore nato ma io spengo dai oh ma come si fa questo gol però che palle oh ma che stiamo a dormi ma impensabile ma dai su per l'uomo sul polo il primo tiro porco dio no il giro di ott ma quello portiara ok Pogba Pogba Mbappe che sono in una posizione una posizione un po' percorso un po' percorso un po' percorso le prima no leonardo mio però porco dio te prego te lo sto a supplicare pensa c'è questi passaggi oddio non ho mai visto ma l'ha stoppata ma da me non la devi stoppare la vita dietro vabbè io non gioco più l'altro faccio un tomate ecco le cose semplici sono semplici io io potevo contare sbagliate fila adesso no sbagliati ma non quanto te le sto pensando io sono zitto io pure sono concentrato non faccio un fiato sei concentrato sai quando ti dico che hai sbagliato qualcosa però cioè ti dico passala te prima no però mi sono rigirato non ti devi rigirare ma devi passala te prima te rigiri sull'uomo è un giro Vai! Il super contro è più credibile! Cazzo scordi il limite! E quando si va al controllo dell'olio si sta a trattare di scuola un po' di scuola E non c'è una scuola Non c'è una scuola Ma non c'è una scuola E stai aderendo un po' di scuola E non c'è un po' di scuola Un po' di scuola Un po' di scuola E non c'è un po' di scuola Ma che cosa può fare? Lo spiegare? E queste scuola andiamo con il colpo, con un tocazzo ci metto la gol madocca l'inno vabbè vabbè però è un po' se io faccio x c'ho abitando in là porca miseria che devo fare oh no diceva Peppo no porca dio porca madonna guarda io non so perché dentro di me me lo so sentito ecco perché rito ma pure io me lo so sentito ho visto l'ho fatto cose che cazzo ma non lo dico perché ma non lo dico perché ma non lo dico parca madonna non so schiavo ma dai eh questa è brutta ma solo c'è una la mamma eh brutta è me contro qualcuno porca dio 2 extra minutes vero что e' fin'era se freddo così aiaiaiaiaiaiaiaiai ma non lo dico perché 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 haha były ho voglia di piangere 57 lo stesso ma non voglio di parlare la l'alena l'alena pallonetto tipo fa qualsiasi cosa poi piazza fabbrica riciclino a sedia dondolo tutto poi volo posta però toccava toccavano addemeno che se sono nervosivo cavallandemeno più più no 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 do cavallari più costruttivi ok ci sta la strigliata dico qualsiasi chiamava auto auto a se stessi che porco siete noi parlavamo così tanto poi io sbaglio tutti i passaggi sbaglio tutti i tiri tutte le cose contrasti più nell'ultimo contrasto che ho piaciuto un momento di timore e non far contrasto che succedeva lì basta borsa ma non si trova che basta la siti ma va a costruttivi bravo ora un po' di questa partita minimo 4 a 0 tocco a finire con messi ma ma cadere io peccato devo cercare di fare il problema di fa qua cosa adottate prima un attimo perché mi sa che ci serve la bomba e oh 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 no io gli ho bello questa verrà lui ok questo è da dijon c'è il Musso Kemi di Bruyne e Romelu Lukaku sono molte ragazzi oh oh Jysy un po' un po' uno vero mamma guarda che sta cascando mamma ma cazzo si fa le tassi ragazzi non va mai tra l'è il passaggio l'ha questo suo posto un giro Mendy Non lo circolastano Nooo come va fuori fuori di gioco troppo volte, ha avuto un tempo che ha avuto migliore dai parco dio, ma giordano oddio come io ho postato a mano giro e io ho fatto a paranna o no questo è un buon giro l'arcelona, usando la dimensione del giro da un giro da un giro da un giro non 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 no che fa lei dobbiamo intercettarlo cos'è via dei celadio e il barcelona è tornato ora occhio entro me dentro commesso no oddio però, ma vitale, ma perché io dico, va addosso ma lascia, vaffanculo no a mano a mano, se non la batte male o esco da qui su preso, eh orcala, orcala come farsi loro, ma oddio ma tutto è possibile, darci fastidio l'arbitro, sempre o o fallo stupendo la valla eh la valla l'ho riuscita la pezza E ora l'ho persata con la goda bellosio, bellosetto. Bella pure la diagonale là. No, 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 no. Che cazzo fa. Oh era partito. Nooooo, il show del merda. Dai, ho pure capito. Cosa è il cuore? No, Vida è grande, non Dio 2 palla abbiamo perso nooo perdiamo troppe palle guardate ma che palla persa è là bro no lo so non sto a dire che la colpa del gol è di quello però non si può perdere palla ogni volta porco dio non si può più la sua volta che gola foto quando penso che mi ha stupito abbastanza a me incuriosisce per scoprire che cosa altro può fare stupino nel mestru di sciocco ma cambiamo come basta ma che cambi si mettono dopo che moneta 784 ma poi mette neto dai se teniamo di stare in terremi da segar si il sito pure dice se c'è un passaggio dove è visibile il giocatore non una diretta il giocatore ed occhi e riri dalle a portatore di balla capito come aspettavano questo passaggio partiamo subito bene no c'è un po' non c'ho attivato il canna di chi? dai, sta sotto la città oi, lì si salta da destra e mi fa dei piedi, che devo fare? c'è, ragazzi, facciamo come ho detto prima c'è, per coccino è costruttivo, vabbè, quattro palle di fila sono difficili oi, ma lì si salta da destra e mi fa dei piedi, che devo fare? vabbè, è vero vordì proprio io vordì proprio no, ma vuol dire che, porco dio, non si stai a pensavo eh eh costrutivo sto cazzo, ho visto che palla, che ti è benzo oh putt oh mamma mia Cioè costruttivo nel senso tipo Dai vabbè 4 è meglio di 5 passaggi dati via No costruttivo c'era Qualcun 2 Secondo dopo Ma vanno sbloccao Ancora Ancora Ha tirato alla lui Ma ci hanno 3 in difesa Ecco tipo questo Io che cazzo di dio devo fare Questa è una pietra stegna in Calda Lugna Non ci chiudere Ok Vado a far fare qualcosa Tuarez? Fortuna che non l'hanno dato dentro Eh? Fortuna che non l'hanno dato dentro a quel buco, porco dio Eh, là ho provato una bella palla larga per Messi Passava quella... Non era male, eh? Bravo te No, Leonardo, scattaaaaaa Eh, l'avrei perso, eh? Sì Che va rientro dietro Tchuuu Vabbè 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 Ehm Vabbè 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 Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ah, io non tiro niente io, quando capitava a me. Ah, è? Entra! Oh no, eh, niente. Particatch. Penso che è un po' nonostante, così spesso avrebbe trovato la parte del netto, ha avuto molti dietro Luis Suarez, Suarez è qui, la break è sicuramente on Oh, abbiamo fatto Orchè Dio Mamma mia, Lona Sta partita, sta partita dopo lo quattro, tre Ma se tu continui così, io sbaglierò il triplo Ma io manco te so di questo Tu mi devi sopportare, me devi sopportare Mi devi sopportare Eh, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è La sua resse, mi sono fermato il cuore Ho detto no, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato Ho detto, tiro sul primo, non avete dei drastopi Mamma mia Brutto, 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 brutto Brutto, brutto Io ho il tocchetto là, io lo faccio sempre Se io poi c'ho te che tu mi dici che sbaglia un sacco dei passaggi Che tocchetto non faccio, perché tocchetto poi mi vado a sbagliare E quindi poi ti risento che ti lamenti Ma non è che, ma come so, c'ha la metà Sto di, cioè, c'era di via, c'è ragione Cioè, dai, ero mai sbagliato tipo 50 passaggi Io, i diritti da te la porta a Zesau Ma mi ha fatto un po' di fare la vera Non siamo diva la relazione, tu stai la fidanzata Io so tipo quello innamorato, capito? E poi quando gli dico, non l'ho detto io Non l'ho detto io, non l'ho detto io Non l'ho detto, scusa, scusa Ti amo, ti amo, ti amo Portaci tu, pure te, pure te te arterie Io mi altro te più Io mi lamento te più, ma te quando parti fa orco o due Ma volta che tempo appini chi sbagli, mamma mia Per entrare nel tuo cervello per sapere che sta now C'è stato un scogliattolino che girerai nel coso Purge Che maschera Purge è la Tutti, non attacca yoga, nido Hai il fembello in quarantena Oh, bella Oh Come stai la vedo al streaming? Io se non ho... Non lo capisco Io se non ho piumpato la partita Il risultato è su Toni Kroos, all'ramos sul centro del park In attacca Guerra Bale con Roumona corruptione con Karim Benzema Nervi Un importante Fear Obattota che abbiamo scritto pezzi di morto ma normali per le nuove sito di salutare come ho detto sto c'è stata la vittoria spero esatto giusto vittoria ogni una banana bonabana mamma mia so fa troppi addominali in palestra un po capito che oggi è un po non c'era vero no che cazzo è successo a me bello che è una dominaria come una volta a vedere fatta bene fatta bene dopo tu postini si è dominato questo buone banane o le banane Ciao ti prendi un pochino? si, ho fatto un pochino non ti prendi un pochino? no ogni volta che c'è la città non ti prendi un pochino si io ho fatto un pochino un pochino un pochino un pochino che vi spiega è un pochino un pochino una volta che c'è un pochino in 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 un pochino che è un pochino un pochino in un pochino è attraverso che Lugolori comincia in gol, Temon Longley comincia con Rafael Varane in defensa centrale e guardando i fronti, ci sono due di loro in questa linea Questa è Kingsley Coman, un quarto ora, fuori dalla linea Spero che non hai imparato quella mossa, altrimenti... Non guardare il pallone adesso ...quella che torna il tacchetto dietro e ben dietro, ti sfonna sempre Ah vabbè, eh vabbè Tiro, rimpallo Primo tiro 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 cazzo è stata oh vabbè la tua la butta te però porco dio rimane seduto rimane non proprio per cazzo cazzo vabbè cazzo vabbè cazzo vabbè cazzo vabbè porco dio sono andato al cazzo cazzo vabbè oddio sai che palla che era oddio bello solo però visto che pertenza di fa ho fatto una uscita certi non dov'entra prima già punta pure attaccato manco non capita mai così totalità ma per cazzo che si ma io se gioco da solo è raro che mi salti con ste cose vorresti eh no che un stile difensivo diverso ma non cosa tu ha no bene no dai è rimasto fermo così ho capito che cazzo ne so che faccia la pitta e mi rimane fermo non va a nessuno vai leo tira tira salta eh che bravo bene 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 cazzo non cazzo non fa'mo più cross nel nodo non cazzo che fai chci che cazzo ci fa' salvare fitalde messi non lo so ... ... ... di nuovo di nuovo Carrefour ma che stanno in partita del lunedì? ma che stanno in partita? non mi resta non mi resta ma no tu ti dici in partita una volta Vabbè pure noi dai Non fa niente Conta più loro A noi sempre Non trovi di sapere Domani Se compriamo in scritto Se ho fatto un po' in scritto Il collettivo Sono andato E' un po' in grado E' un po' in grado E' un po' in grado Conte e il Barcelona è tornato in giro Messi Messi Il giro percorso e raccoglione i giro percorso il giro con il giro con il giro con il giro e il possibili il giro percorso il giro percorso il giro percorso il giro percorso come come lo faccio vedere? non mi lo dico a vedere quando c'è occasioni non mi rimbarco oggi ora è una loda di vivi tu go non mi rimbarco non passa mai una palla quando fai il passaggio cosi palle oh che cazzo questo giocatore loro no spagolo vabbè dentro la del rigore è fuori dentro il rigore pensiamo a difende se non so facile la difende ma stai fermo io sto fermo tutte e due che ha fatto parevo fatto solo io no no se non muo giocchiamo di non perderla almeno se non passa una cazz di palla Oh Mamma mia Saga guarda Isolè Forza per te! Grazie Oh, mi ha tirato finalmente la segna Vedete, Willins lo sarebbero mangiato Lui Suarez To bring them level The keeper stops it There could be a follow-up now And Don Kim comes out with a punch Messy's corner The corner punched away Griezmann Dai Griezmann No Is it Kinsley Coman? FFFF Fogba Ben Yedder Conte I don't know One or two options now in ford areas for them no time for an extra touch after the tackle is out of harm's way wait a minute wait a minute if this Barcelona crowd could score a goal they would do listen to them look at the room in which to attack the pass not completed really support running on either side oh eh ormai siamo arrivati a che io che te basta anche il sapore dell'occhio oh ma la fai bacio una no no bacio lui eh guarda guarda ma ci ho messo il portiere vai eh la bella eh ma si ma la maledetta vai ah benedetto ho fatto altro no 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 Grazie a tutti.